ben ritrovati e un'altra puntata del viaggio delle 13 monete che porta un po' a quello che mi succede dentro quella mia trasformazione a quello che come si cambia dentro quando si entra nello spirito che è il vero dentro è il vero io il vero se e allora cominciamo a cambiare proprio ottica cambiare tutto che si manifesta prende un altro gusto un altro sapore si accelera arrivano più informazioni arriva più sincronicità arriva di tutto di più per cui diciamo credo che la vera realtà sia quella questi video faccio apposta per apportare diciamo quello che succede per dare ispirazione a chi ne ha voglia di capire che c'è tutto dentro basta applicarsi e farlo il fuori solo materie enerme quello che le rende viva siamo noi per cui se noi cediamo noi stessi possiamo accedere a tutto ciò che ci circonda e manifestare e creare la propria realtà però ovviamente bisogna volerlo bisogna dedicarsi bisogna impegnarsi che nessuno lo vuole o magari farsi dire dagli altri cosa fare legge quel libro studia quella cosa guarda quel telegiornale vivi così mangia questo mangia quell'altro e così si diventa dei robottini è una scelta è una scelta non è chi uno è meglio uno è peggio dipende uno cosa vuole dalla vita ecco questo sì perché ognuno è impegnato nella propria di esperienza e dobbiamo sviluppare quell'esperienza del perché siamo venuti qui a farlo e tramite il nostro spirito ci guida in quello che siamo venuti qui è quello che è la nostra missione ecco chiedo a tutti chi ne avesse voglia di guardare la prima puntata così non si capisce anche tutte le varie evoluzioni del perché si arriva a questo punto come cosa ritrovamento invece delle 13 monete sulla serie rivelazioni state 2022 allora abbiamo iniziato che appunto mi è lasciato la puntata scorsa in cui si diceva come le cose ti arrivano anche stando fermo perché se tu sei collegato con lo spirito spirito fa arrivare te tutto anche se fuori si manifesta a te per cui non devi nemmeno più muoverti perché ti arriva il tutto perché la conoscenza parte da dentro e quando le cose ti vengono rivelate capisci ancora di più che tutto arriva da dentro allora praticamente raccontato appunto come questa cosa che era passata in radio in quel momento mi è stato detto accendi adesso ho acceso poco dopo è passata la pubblicità di questo negozio eccetera e volevo chiamare e chiedere però poi chi ho chiamato perché le informazioni non ha risposto e poi ho detto che se non ha risposto che non era il momento per sapere o per dire eccetera e poi dopo comunque sia a tardi pomeriggio mi è arrivato un vocale da questa persona che mi aveva scritto giorni mi ha telefonato giorni prima per dirmi se è la pubblicità in radio apriva questo quattro eccetera e mi arriva praticamente un suo vocale che mi dice come quando e dove il negozio apre per cui prima mi ha chiamato per dirmi sta cosa qua io non ci ho fatto caso poi mi è stato detto accendi la radio e così subito ho passato a pubblicità poi dopo arriva questa persona che mi manda un vocale e mi dice tutto per cui da là capiamo che non dobbiamo neanche spostarci per sapere cosa succede ci arriva direttamente tutto dalla fonte e la fonte è la fonte spirituale che mette in moto la materia e fa arrivare le cose in sincronicità e da lì sappiamo se siamo sulla strada giusta o meno perché se arrivano le cose in sincronicità è giusto se non arrivano vuol dire che forse qualcosa non sta andando nel procedimento e dobbiamo rivedere quello che stiamo facendo per cui diciamo questo era quello che poi mi ero segnato anche una cosa di cui volevo dire fare del piacere è un'osservazione che ho fatto una riflessione dice la mente materiale ci fa sentire in mancanza e vuole che noi ci riempiamo di cianfusaglie perché quando tu senti di essere in mancanza non cerchi di dire beh allora forse bisogna dire macchia e la televisione dice ah prendi sta macchia sarei felice prendi questo allora tu cerchi fuori quello che in realtà dovresti avere dentro allora ti riempi i cianfusaglie questo quell'altro eccetera poi fatichi per avere sta cosa e poi devi pagare sta cosa e poi devi mantenere sta cosa per cui ti riempi e ti affossi di tutte cose che non ti servono a un pifero però le riempi perché sei in mancanza e nessuno ti dice dove arrivare alla fonte per riempire queste mancanze perché non è fuori però non insegnandoti che dentro la gente cerca fuori e così rimani schiavo del fuori e così aiuti a far andare avanti tutta la giostra come un schiavetto invece per essere libero devi capire dove arriva la fonte però e vieni da dentro e devi impegnarti e devi metterti lì e poter bere dall'acqua dalla fonte invece di cercarla nel deserto che deserto non troverai mai ti faranno correre con un ding dong avanti destra e non troverai mai niente perché alla fine arriva tutto da dentro però certo che nessuno te lo dice questo purtroppo no però una cosa che se vogliamo chiediamo e ci viene data la conoscenza anche di come arrivare alla fonte ecco la percezione invece è alla ricerca di risvegliare ciò che sia già e lo si fa togliendo il bisogno della mente ed agire tramite lo spirito per cui la percezione comunque è una è una cosa spirituale così come l'intuito se sto senso eccetera cui le percezioni ci portano la ricerca del risveglio in modo che usciamo dalla mente togliamo la mente e la mettiamo servizio dello spirito ed è lì che si riesce a capire come entrare in noi stessi ecco questa è una piccola riflessione osservazione che volevo portare che ci tenevo insomma inserirla spero che sia di beneficio per qualcuno per cui continuiamo col discorso del del viaggio allora 11 marzo andando su e giù per i tunturi e gli altipiani cantavo sottovoce le mie canzoni e ringraziamento in devozione a dio e al suo creato che mi sta ospitando con questi meravigliosi scenari mozzafiato realmente molto belli poco dopo mentre si eravamo sorpassiamo un tipo che portava la sua slitta che qua vanno a sciare così di fondo eccetera e si attacca detto delle slitte e poi vanno a dormire sui vari rifugi salvia anche una settimana 10 giorni dormire in giro per i rifugi di qua di là e nel frattempo portano i viveri sacco a pelo le cose che hanno bisogno sulla slitta perché sennò sullo zanio pesantissimo sulla slitta invece scivola sulla neve ed è molto più facile ecco un tipo che poi un punto portava la sua slitta per soggiornare e lui comincia a parlarmi in finlandese allora non è spesso che una persona ti comincia a parlare però questo comunque crea la legge della manifestazione cioè tu quando hai qualcosa dentro la vuoi emanare e scambiare con qualcuno per cui con i tuoi simili in vibrazione in frequenza e le percepisci le persone che sono con la tua frequenza per cui questa persona ha cominciato subito a parlarmi in finlandese perché io ho pensato anche questo perché non inglese che non qualcosa eccetera perché dopo un po che vivi qui entri dentro queste queste frequenze entri dentro questa tranquillità entri dentro questo flusso energetico automaticamente non hai più differenza tra te o il bosco e le persone le cose perché vibri tutti nella stessa frequenza per cui non ti sentono come uno che non è del posto perché ti sentono uguale come frequenza e questo fa percepire però ovviamente ci entri dentro dopo un po che sei qua non è che poi viene una settimana o due settimane e entrarci dentro cioè viene vivendoci per cui insomma comincia a parlarne infinico e gli rispondo in inglese che purtroppo non parlo molto bene il finlandese qualche parola ma non abbastanza per avere una conversazione allora lui mi dice salita difficile e gli rispondo che le difficoltà rafforzano l'intento e la mente e del fisico ciò che arriva facile se ne va anche facile lui mi dice che sì che abbiamo vari cervelli cioè lui comincia a rispondermi mi dice abbiamo vari cervelli nel corpo e che ne dobbiamo rafforzare ognuno e se non li usiamo essi si spengono e si ammalano per cui quante possibilità ci sono che tu cominci a parlare con una persona che sta sciando la da satinando una slitta e ti metti a parlare di queste cose di cervelli che abbiamo nel corpo di spiritualità credo che sia quasi impossibile matematicamente però succedono queste cose perché perché entri in questa sincronicità entri in queste frequenze le persone arrivano le pure si manifestano e per cui è tutto un continuo così perché entri in questa frequenza del così allora comincia appunto parlo di questi vari cervelli che sapevo anch'io che ogni parte del corpo c'è per questo quando tu hai fame come fai a sapere che fanno perché c'è il cervello d'ossomo che ti dice ho fame come quello dei muscoli quando si stanco o quello della mente che dice guarda boh non so stufo pensare sono in te devo riposare capito qui se noi ci facciamo caso noi siamo il capitano di tutte queste cervelli e li sincronizziamo insieme per cui dobbiamo dare il giusto riposo al corpo dobbiamo dare il giusto cibo allo stomaco per questo diciamo noi siamo quelli che organizziamo tutto questo per cui dobbiamo essere coscienti del bisogno di ogni cervello che ci fa sapere come sta quella parte del corpo per cui veramente siamo perfetti cioè chi ha creato e assemblato questa materia non possiamo essere noi perché è troppo perfetto ecco per cui solo lo spirito può manifestare la materia e agglomerarla così in un modo così come le piramidi anche pensa che cervello perfetto che ha avuto a sollevare tutte quelle cose mentre ancora adesso non se non darà una spiegazione ci fa capire che comunque quanti poteri ci sono illimitati di cui noi non ne siamo conoscenza invece dobbiamo farci sempre domande e scavare per ricevere questa conoscenza perché se mai scavi mai trovi allora appunto gli dico questo lui appunto di parla delle varie cose che si amano varie parti del corpo eccetera la sera prima stavo vedendo un video proprio su questo che noi siamo il capitano del nostro corpo che coordina tutti attraverso cervelli tra di loro allora la sera prima vedo questo video e il giorno dopo incontro una persona che mi parla di queste cose che ho visto nel video la sera prima per cui è tutta una sincronicità quando noi siamo collegati con lo spirito lui fa sì che le conferme le risposte eccetera arrivano tramite una persona dice una cosa o tramite un avvenimento tramite una canzone cioè tutto gira intorno a quel punto perché è quando noi siamo contatti con lo spirito lo spirito che comunque ci risveglia dove noi non arriviamo per cui ci completiamo con lo spirito e quando noi capiamo questo cioè veramente entriamo in una dimensione che è meravigliosa è veramente un trip cioè è una cosa che dici cavolo ma è vero o no all'inizio te lo chiedi e poi dopo lo vivi perché sai che è vero non so neanche come spiegarlo perché è difficile perché se qualcuno non lo sperimenta è un po' difficile che lo capisca però questo è un po' il mio intento cercare di apportarlo di modo che le persone che ascoltano o voi che ascoltate potete risvegliarvi al vostro spirito e capire che non siamo persone ma siamo esseri spirituali che agiamo tramite la persona che siamo un uomo donna questo colato sono solo delle manifestazioni esterne però se noi arriviamo alla fonte allora tutto si rivela ecco per cui basta volerlo e impegnarsi a volerlo e desiderarlo con ogni cosa in noi stessi perché ti trasforma proprio il tuo modo di essere allora è questo c'è tra loro avevo capito che tramite lui mi avevano mandato un altro segno lungo il mio cammino d'altronde chi incontri mentre stai sciando che inizia a parlarti e che ti parla dei vari cervelli fisici come ho detto è abbastanza improbabile però soprattutto di una cosa che visto se la prima secondo questo mi sta succedendo sempre di più e di più allora dico ok ho quello connesso con quello questo questo quello quattro mi chiama così quell'altro arriva colà arriva questo quell'altra persona sento la sua canzone in radio sento questa cioè è tutto un continuo così un continuo flusso e allora dico wow che esperienza incredibile e così in modo dell'esperienza poi nel pomeriggio mentre dovevamo scendere con degli sci da una salita eravamo sopra questo punto di questo altipiano praticamente ci sono delle piste ben fatte con le corsie e le robe andando su ecc non so se conoscete come sci di fondo ecc comunque è tutto fisico sia andando su che andando giù non c'è niente che ti tira o roba eccetera ecco questo però era si chiama un natural trail è una traccia un tragitto in cui ci sono dove metti le cose per andare su ci sono le due corsie come vuol dire che sono a distanza qualche centimetro uno dall'altro e poi di fianco ci dovrebbe essere lo spazio in cui quando la discesa è forte puoi andare giù a spazzaneve ma non c'è per cui è molto fine allora per scendere diciamo ma zio peli come scendere se vai dritto prendi una velocità non ti fermi più ti fai male se vai giù a spazzare non c'è spazio per scendere com'è che si scende? ovviamente non lo sapevamo allora gli ho detto aspetta un attimo bisogna capire qua come si scende perché è difficile a meno che tieni un sci nella corsia e l'altro fuori ma anche lì è difficile perché la neve non è battuta bene ci sono i rialzi c'è ghiaccio perché ovviamente quando sono temperature bassissime si fanno il ghiaccio le robe i cumuli allora gli ho detto come facciamo scendere? appunto in quel momento che noi pensiamo come scendere qua là eccetera dal nulla probabilmente dal nulla probabilmente dal nulla perché non c'era nessuno re dal nulla probabilmente c'era un miraggio se ho chiesto di chi c'era vero o no dal nulla passa una persona di fianco a noi tipo a 10 metri sciando fuori pista in mezzo alla neve praticamente lui scende con gli sci che ovviamente vanno in mezzo alla neve la neve essendo alta fa attrito per cui sprofondi quei 10-20 cm in cui comunque puoi scendere ma non senti velocissimo perché la neve essendo soffice fa attrito e ovviamente invece a scendere dritto scendi curvato capito un po' di spiego poi ti fermi girisci e fai l'altro spiego e zig zag come tipo dei torranti dipende ovviamente da com'è la discesa e vediamo che ci passa ci guarda e va avanti non so se ci guarda ha pensato guarda sti impediti qualcosa non lo so però ci guarda sbucca dal nulla e vediamo è lì la risposta alla domanda che ci avevamo chiesti come facciamo sciare? e lui come se ci avesse guardato e dire guarda così si scende per cui o è un miraggio è stato un miraggio non lo so o questa persona cioè avevamo questa richiesta nella testa è entrata nello spirito è entrato nel suo spirito che è entrato nella sua testa è passato di là e ci ha guardato per attirare la nostra attenzione per dire guarda si fa così perché lo spirito fa questo molte volte è stata un'esperienza interessante ancora una volta fa vedere la sincronicità delle cose per cui diciamo è stato interessante per cui ci guarda va giù per la montagna con gli sci in mezzo alla neve fresca in modo che sprofondando gli rendeva più facile la discesa anche questo è arrivato dal nulla nel momento di necessità avevo anche un problema con l'attacco tra scarpone e un sci ed il giorno dopo perché era un po' rigido eccetera il giorno dopo mettendo via le cose nel cavone che aveva tirato fuori per tirare fuori le cose mettendo dentro qua nel cavone guarda caso cosa ho dimenticato fuori lo svito e ha detto ma zio Pili perché ho lasciato fuori lo svito eccetera ecco e il giorno dopo che avevo un problema con lo sci che si incastrava perché entrava la neve poi con il ghiaccio si formava il ghiaccio e non scendeva la molla eccetera mentre con lo svito non si ghiacciava ecco che ho capito il perché è stato lasciato fuori il svito perché mi sarebbe servito un giorno dopo e poi tante volte si vedono degli oggetti delle cose non si sa il perché e si si fa attenzione poi dopo ci si rende conto che serviva per cui quando si entrano in queste frequenze alla fine dove non arriva la nostra mente arriva il nostro spirito ci fa vedere le cose per cui cioè veramente si è avvolti come in uno strato di protezione di tranquillità di colore perché sai che comunque hai un supporto da qualcosa di molto più grande di te che può tutto per cui alla fine non hai nemmeno preoccupazioni o frequenze basse o robe eccetera perché sai che comunque hai una protezione sai che comunque non hai niente a dimostrare niente a nessuno perché una volta che tu sei in pace col tuo spirito del resto che succede fuori non ti interessa proprio nulla perché stai bene dentro è come dire uno che vuole fare delle cose esterne per aiutare qua là eccetera e io dico prima aiutati te stesso poi quando sei in grado di aiutare te stesso ti mandano le persone da aiutare ma prima devi aiutare te stesso come puoi aiutare qualcun altro se non sei in grado di aiutare te stesso magari aiuti qualcun altro per colmare quel senso di vuoto di robe eccetera in te stesso così il tuo ego la tua mente si sente soddisfatta che hai aiutato qualcun altro eccetera ma quanti giri cioè farlo in te stesso direttamente e così non hai bisogno di fare tutto questo giro fuori e quando tu sei dentro te stesso hai tutto questo sei pieno come un fiume in piena automaticamente straboccherà ed esonderà verso il tuo prossimo e il tuo spirito ti manderà le persone a cui devi portare questo per cui non sei tu che devi andare in cerca per farti star meglio perché così ti senti che hai fatto un'azione buona bla 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 cioè ma ma cioè no però queste cose ci arrivi quando veramente sei in umiltà in attenzione e vai a cercare queste cose nel tuo profondo però ovviamente devi devi volerlo insomma ecco per cui diciamo questo è finita la giornata di questa in questa esperienza e lì eravamo a sud di Sariselka in cui avvenivano queste cose sempre più frequente sempre di più e così adesso guardo un po' gli appunti qua che avevo appunto preso eccetera e appunto apporto anche delle riflessioni che nel frattempo mi vengono perché un po' mi arrivano le rivelazioni mi arrivano le situazioni penso una cosa sia vera questo o quel lato nel frattempo mi arrivano anche le riflessioni interiori questo per cui è un insieme di tutto è tutto un percorso che va è come un seminario di vita alla fine che va in cioè progredisce sia nell'esterno che nell'interno così dentro così fuori per cui tu pensi una cosa dentro si manifesta fuori guardi un video dentro te stesso lo assimili fuori ti viene imparare quella persona in quel video chiedi una domanda come scendere un monte arriva quella persona e fa vedere come scendere il monte ed è tutto così perché? perché entri in sincronia con te stesso e quando sei in sincronia con te stesso si manifesta anche fuori ecco nel cui io dico dico questo è un mondo di amore e siamo stesi qui per questo per innalzare le frequenze di quello che ci circonda partendo da dentro noi stessi per fare sì che diventi così dentro così fuori e connettersi con il divino in noi affinché così sopra così qui sotto è molto semplice basta l'intento e desiderarlo con tutto il nostro cuore in amore poi dall'alto ci danno una mano perché il nostro motivo di essere qui è proprio questo aiutare noi stessi ad evolverci in questa esperienza ed aiutare gli altri a fare altrettanto perché se no perché siamo stesi qui? non solo per godere della materia e rimanere intrappolati quello può fare anche un albero un animale altre persone ma noi siamo diversi abbiamo una coscienza abbiamo un intuito abbiamo uno spirito guido abbiamo tante cose siamo dotati veramente di tanti optional io chiamo così per cui andiamo oltre nel motivo del perché siamo qui noi siamo venuti qui per una missione ben precisa per innalzare noi stessi innalzare il mondo innalzare le frequenze che ci girano intorno perché più persone che siamo che vivono che pensano nel bene che sono in pace con il loro spirito che emanano felicità amore eccetera più si innalzano le frequenze di questo pianeta per cui il motivo del perché siamo qui in realtà lo sappiamo dobbiamo solo applicarci non possiamo godere dei frutti e non fare niente eh no perché sennò è come prendere e non dare per cui possiamo sì godere dei frutti ma non rimanerne attaccati perché non sono nostri li troviamo già qui ieri ieri mentre ero in sauna facevo dei piccoli riti con l'acqua sulle pietre versavo tre volte lo stesso mestolo in tre punti diversi e recitavo a bassa voce i miei mantra e preghiere per la connessione al mio spirito e da beneficio di chi era presente perché noi emaniamo una forza incredibile se noi siamo connessi al nostro spirito a quello che stiamo dentro eccetera possiamo emanare fuori quello che abbiamo per cui se emaniamo vibrazioni eh alte possiamo portare felicità e tranquillità possiamo ricerca risveglio spirituale tante cose al nostro approccio se viviamo in vibrazioni basse eh diciamo noi bassi cosa vogliamo portare fuori tristezza anche no per cui e questo dobbiamo sempre vibrare in quelle frequenze alte al nostro beneficio e anche di delle altre persone le persone che entravano stavano attentamente in silenzio ed alcuni addirittura sussurravano a bassa voce tra loro mi avranno scambiato per uno sciamano in realtà non facevo niente di che ma forse era ero così connesso con dentro me stesso che magari da fuori si percepiva questa energia non lo so in realtà semani lo siamo tutti ognuno di noi quando ci colleghiamo con lo spirito dentro di noi il nostro vero io ognuno ne ha la capacità siamo qui per questo già cominciavo a realizzare i primi passi nel senso lo siamo tutti siamo dentro abbiamo ognuno questa capacità eccetera e già la cominciavo a comprendere che forse il fuori quello che cerchiamo fuori è solo uno specchio di quello che abbiamo già dentro però lo stesso fuori volevo cercare qualcuno che aveva questa conoscenza che potevo trasmettermela qua e là eccetera per cui diciamo ero sempre preso tra questi due decideri quello di riscoprirlo dentro e quello di ottenerlo fuori tramite qualcuno ecco a casa dell'anne che aveva moltissimi libri sullo samanesimo ho letto proprio che la sauna è stata creata apposta come luogo di culto molto interessante e spiegava anche il perché eccetera in cui ci si purifica il corpo e lo spirito è che ogni volta cui si versa l'acqua andrebbe fatto un ringraziamento una riflessione una dedica una preghiera o altro a Dio agli dèi agli antenati e soprattutto al nostro spirito interiore che è collegato con il mondo sotto ed il mondo sopra non che con il qui ed ora questo sono dei punti fortissimi di riflessione e da lì si capisce veramente a cosa è la sauna è un posto come una chiesa come un luogo sacro un luogo di culto un luogo in cui ci si purifica il proprio cuore e il proprio corpo la propria mente ci si collega con il nostro spirito cioè ogni volta buttiamo l'acqua facciamo una dedica facciamo una devozione facciamo e da lì si apre il tutto ed ecco perché anche dopo che tu hai fatto la sauna se hai questa attitudine queste cose eccetera si possono sbloccare certe energie interne ed ecco per questo quando siamo tutti in sauna tutti lì eccetera non c'è questa cosa di nudità di corpo di questo eccetera perché non ci identifichiamo più col corpo ma con lo spirito per cui è interessantissima questa cosa infatti avevo letto questa cosa qua e cercavo di applicarlo ogni volta facevo la sauna di mentre buttavo l'acqua capito fare come una dedica o un qualcosa perché questi sassi queste cose rappresentano una purificazione per il corpo e per lo spirito per cui questo è molto fondamentale l'attitudine è la consapevolezza con cui noi facciamo le cose è come bevo un bicchiere d'acqua sì perché bevo un bicchiere d'acqua perché ho sete sì ci sta ma bevendo questa acqua che il mio corpo lo richiede quel cervello del mio corpo richiede che ho sete mi manda l'impulso la testa la testa dice ok mando subito in sussistenza l'acqua e l'acqua però poi aiuterà a far star meglio noi stessi il nostro corpo perché tramite il nostro corpo facciamo delle esperienze dalla parte spirituale nella parte materiale eccetera per cui dobbiamo tenere al meglio il nostro corpo tenerlo sempre bene non tenerlo sotto tabacco sotto alcol sotto cose perché nebbiererà solo questo la batteria si sta scaricando intanto vi saluto e ci sentiamo al prossimo evento ciao